Il gelato è un vero e proprio alimento, eh sì, effettivamente si può parlare di alimento e ne parliamo del gelato festival con Gabriele. Gabriele, pronto? Ecco di qua, ma di la verità stavi mangiando un gelato e ci hai fatto aspettare. E noi qui capito che già avevamo l'acquolina in bocca perché ci è capitato, ormai conosciamo l'appuntamento del gelato festival di Roma all'auditorio Un Parco della Musica che sarà presente fino a domenica 18 maggio, quindi fino a domenica prossima. Quest'anno quali sono le sorprese? Ma allora dunque, quest'anno intanto abbiamo il lancio ufficiale del gelato al vero gusto di Nutella. Ah, ma questo perché si sono compiuti quest'anno i 50 anni dalla nascita della Nutella, giusto? Esatto, e hanno pensato giustamente di fare un gelato originale Nutella e quindi questo qui è una cosa super ambita che già in queste prime ore di apertura sta registrando la fila. Eh beh, immagino, immagino considerando quanto è amato questo prodotto, quindi di conseguenza è amato anche il gelato, unire le due cose è diventato un sicuro successo. Esatto, poi abbiamo dei gelato cocktail molto particolari quest'anno. Che vuol dire gelato cocktail? Il gelato cocktail diciamo che sono dei drink a base gelato, un po' un modo pop per degustare il gelato, dove ci sono sia a base leggermente alcolica che a base analcolica, per citarne qualcuno il piña colada e il mojito. Buono, questo ci piace. Assolutamente, tutti questi tipi di gelato, anche un po' strani, è possibile degustarli proprio lì all'auditorio, ma durante questi giorni? Assolutamente, è un po' una full immersion nel mondo del gelato, che va da un corso di degustazioni tra gelati tradizionali a gelati innovativi, a il gelato cocktail, piuttosto appunto che gelati come il gelato energizzante oppure il gelato nutella. A base di che cosa il gelato energizzante? A base di peperoncino caramellato, liquirizia calabrese e pistille di zafferano. Meraviglia, meraviglioso. Questo sì, fa venire veramente un po' di pizzicore, ci mette nella nostra vita che a volte non guasta. Niente male questo energizzante. Eh, non è male, infatti è molto apprezzato anche questo qua. E poi ci sono, da non perdere, tutti i giorni durante le ore di apertura, che sono da mezzogiorno a mezzanotte, corsi di gelato, quindi corsi di gelateria, fatti da chef e da alcuni dei più famosi, ai blasonati, celatieri di Roma, tra cui ricordo, diciamo così a titolo esemplificativo, la gelateria I Gracchi, che farà un corso sul gelato pluripremiato e famoso al pistacchio della gelateria. Quindi proprio come si fa, da A alla Z, un corso tenuto da loro. Eh, così tutti potranno finalmente preparare il gelato al pistacchio, che è una loro eccellenza, una bontà assoluta. Vabbè, chissà, chiaramente forse non sveleranno tutti i segreti, però insomma un avvicinamento alla ricetta originale. È veramente un'eccellenza il gelato nel nostro paese e quindi diamo veramente a tutti la possibilità di provare, anche vedere come in realtà esce fuori questo prodotto così amato. Allora, è possibile già da oggi? È già aperto il Gelato Festival? È già aperto, abbiamo aperto mezzogiorno con l'inaugurazione e poi per qualsiasi informazione relativa a orari, programmi, maestri in gara e gusti www.gelatofestival.it ci sono le informazioni aggiornate in tempo reale, oltre che la pagina Facebook di Gelato Festival dove naturalmente continuamente aggiorniamo tutto quello che sta accadendo dal festival. Certo, è assolutamente un appuntamento da non perdere, anche perché durante il fine settimana chi è che non ha dopo cena o prima di cena fare un saltino per degustare qualche buon gelato o soprattutto per conoscere dei gelati così particolari come quelli che ci hai raccontato tu. Allora, l'appuntamento è all'auditorio Un Parco della Musica fino a domenica 18 maggio avete la possibilità di provare tutti i gelati con il Gelato Festival alla sua seconda edizione, non è vero? Seconda edizione a Roma. Molto bene, allora ti verremo sicuramente a trovare Gabriele. Vi aspettiamo, accorrete numerosi e mi raccomando, votate il vostro gusto preferito per concorrere a eleggere il miglior gelatiere della tappa romana. Beh, io un'idea già me la sono fatta, molto bene. Ciao Gabriele, ciao Gabriele. Ancora Gelato Festival all'auditorio Un Parco della Musica un appuntamento per questo fine settimana assolutamente da non perdere.